buongiorno a tutti volevo fare un breve video che non riguarda il calcio mercato non riguarda la juve ma riguarda il tennis io sono davvero felicissimo sono davvero contentissimo per la vittoria di martina trevisan grande grande match grande partita la trevisan è una vera lottatrice veramente ha un tennis fantastico e poi e poi nei punti importanti lotta lotta in una maniera impressionante e poi e poi riesce anche a rimontare dai break che subisce è veramente una cosa impressionante nel primo set nel punteggio di cinque pari si è fatta prendere servizio e quella servito per i set e gliel'ha preso poi al tie break ha dovuto annullare set point pure la sasnovic e poi lei dopo tanti set point che non è riuscito a chiudere è riuscito a chiudere sul punteggio di 12 a 10 c'è una cosa incredibile una cosa incredibile e infatti poi il primo set l'ha vinto 7-6 al tie break poi secondo set mi pare che mi pare che ha subito pure pure un break e stava arrivare 4 4 2 mi pare sul 4 3 mi pare che ha subito sul 3 pari mi pare se di che lei abbia subito mi pare che ha subito break perché poi siccome io mi sono visto il match con il mio padre il mio padre l'ha tolto l'ha voluto togliere perché siccome mio padre è fatto così il goccio poi non ho visto poi quando l'ha l'ha briccata di nuovo quando gli ha ripreso il break forse quando lei ha servito per il quando la sasnovic ha servito per il 5 3 oppure per il 5 ha servito per il 5 4 boh uno di queste due uno di questi due sicuramente gli aveva appeso il servizio e poi appena l'ho l'ho rimesso lei gli stava servendo per il match e stava su 6 5 e sicuramente su 5 pari gli aveva appeso il servizio sicuramente e gli appeso il servizio è andata sul 6 5 e poi ha servito per il per il match point e lei nonostante stava sul 30 pari nonostante ha lottato di nuovo perché i suoi due servizi non sono stati facili per lei e nonostante tutto è riuscita a chiudere su 40 30 in una maniera impressionante c'è grande Martina Trevisan ai quarti di finale dopo dopo che Pennetta non succedeva mi pare dal 2016 al 2015 mi pare che la Pennetta e la e la e la e la vince andassero ai quarti di finale cioè e ora 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 la Trevisan è andata ai quarti di finale battendo la Sasnovic 7 7 6 7 5 c'è una partita lottatissima e non era facile non era facile ma la mattina Trevisan ha lottato come una leonessa come una leonessa come una leonessa complimenti veramente sono davvero felice poi poi il suo sorriso è veramente contagioso per tutti quanti di fossi c'è le sue dichiarazioni bellissime veramente fantastiche vi amo vi amo I love you vi amo c'è c'è veramente c'è il suo sorriso è fantastico fa c'è c'è fa quasi innamorare tutti quanti i tifosi grande grande Martina Trevisan complimenti veramente per la tua vittoria e spero che continuerai così e speriamo bene per 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 la camellina Giorgi speriamo bene che anche Camilla Giorgi oggi riesca a vincere perché sarebbe sarebbe una cosa eccezionale che due italiane andranno nei quarti di finale sarebbe una cosa eccezionale per il tennis femminile e sarebbe meraviglioso vi auguro una buona giornata un buon pranzo oggi pomeriggio ci saranno tutto di tutto ci sarà di tutto formula ciclismo di tutto di più vi auguro un buon pranzo a tutti che ora dovete andare a mangiare e vi auguro un buon pomeriggio una buona giornata e buon buon sport a tutti quanti grazie a tutti